Buongiorno e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telestense, parleremo a breve del grave episodio di cronaca avvenuto la mattina di Pasquetta nella centralissima via Garibaldi dove un uomo ha picchiato la fidanzata provocandole gravi lesioni, tanto che è stata ricoverata un giorno a Cona, l'uomo è stato arrestato, ma ne parleremo a brevissimo con altri casi di cronaca che hanno interessato la città, ma parleremo anche della vicenda del taglio delle filiali biper in città come in provincia, è intervenuta anche la politica attraverso il consigliere della Lega Fabio Bergamini che chiede un intervento della regione per tentare di mediare e tentare di portare a un tavolo la dirigenza di Biper per discutere appunto questo taglio di filiali che interesserebbero diverse situazioni in cui i cittadini stanno protestando, infatti come ci hanno detto da CGL si sta cercando di lottare contro queste opportunità di taglio da parte dell'istituto bancario, ma è difficile che vengano evitate le chiusure, ne parleremo a brevissimo, ma parleremo anche però di Pasqua e di festività perché ci è registrato un buon numero di accessi ai musei della città nel weekend pasquale, anche gli agriturismi stanno registrando buoni numeri di accessi e soprattutto si spera anche nel prossimo fine settimana che si collegherà poi al 25 aprile, quindi il turismo sembrerebbe che sia tornato a muoversi dopo due anni difficili di restrizioni da pandemia da Covid e a proposito appunto di Covid non ha mollato la presa in questi giorni sul territorio ferrarese anche se si registrano pochi e nuovi casi positivi, solo 99 su un numero però relativamente basso di tamponi eseguiti e ovviamente si trattava di giorni di festività quindi i tamponi sono stati pochi, allora vediamo il bollettino più aggiornato, quello riferito a lunedì dell'angelo anche se il bollettino odierno darà una visuale più completa su come sta andando l'epidemia sul nostro territorio e si spera appunto che il trend venga confermato e che quindi si vada verso una situazione migliore nei prossimi giorni, sentiamo. I nuovi positivi in 24 ore tornano sotto soglia 100 dopo tantissimo tempo, 99 nuovi casi registrati nell'ultimo bollettino riferito a Pasquetta su molti meno tamponi rispetto ai giorni feriali, 162 invece i nuovi guariti ma si registra purtroppo un nuovo decesso, una donna di 62 anni di codigoro, situazione ospedaliera stabile nei reparti Covid nel ferrarese, 63 posti occupati a Cona, 44 al Delta e 12 a 100. L'aggiornamento in Emilia-Romagna registra appena 1.751 nuovi positivi, 2.200 i casi attivi meno con 3.991 nuovi guariti ma purtroppo ci sono stati altri 14 decessi a livello regionale. In Emilia-Romagna poi calano i ricoveri in terapia intensiva mentre sono cresciuti quelli negli altri reparti ordinari Covid. Capitolo vaccini nel ferrarese, crollo delle somministrazioni, solo 38 le dosi inoculate il giorno del lunedì dell'Angelo che hanno fatto salire a oltre 220.000 le terze dosi totali in territorio estense e 900 le quarte dosi. E sulla chiusura delle filiali Biper a Ferrara in provincia interviene anche il consigliere della Lega in regione Emilia-Romagna, il bondenese Fabio Bergamini. Nel giro di pochi anni Biper ha praticamente dimezzato le filiali sul territorio ferrarese tra annunci e promesse non mantenute come il mantenimento di servizi minimi come ad esempio il servizio Bancomat. Questo dice il consigliere del Carroccio che chiede quali sono le reali intenzioni dell'istituto bancario. Bergamini ha depositato un'interrogazione in assemblea legislativa per fare chiarezza. Consigliere che già prima della pandemia avrebbe chiesto di poter incontrare i vertici del gruppo bancario per poter spiegare loro le ragioni dei territori, dice Bergamini, ma ora attraverso un'apposita interrogazione appunto chiede alla regione di invitare formalmente in Vialaldo-Moro-Bologna i vertici del gruppo per relazionare su quanto stia accadendo. E appunto tra un mese esatto, venerdì 20 maggio, chiuderanno sette filiali Biper, quattro a Ferrara, tre in provincia e ricordiamo appunto che da quando Biper dal novembre del 2017 ha acquisito la vecchia Carife sono stati dimezzati gli sportelli presenti in provincia. Da 55 a 29 contro la chiusura si sono schierati, come aveva sentito la politica, le istituzioni, l'imprenditoria locale ma anche i sindacati sarà un impoverimento drammatico per un territorio, quello ferrarese che vive una crisi demografica pesante, ha detto Samuel Paganini che è segretario federale della Fisas Ferrara, la federazione italiana sindacale dei lavoratori, delle assicurazioni e del credito che rappresenta nella CGL i lavoratori delle banche. Paganini dice anche che ad essere penalizzate saranno soprattutto le persone anziane per le quali sarà più difficile l'accesso a uno sportello bancario. Allora con Paganini facciamo il punto della situazione a un mese dalla chiusura delle filiali. Le sette filiali del gruppo Biper chiuderanno a Ferrara e provincia, esattamente quattro nel comune di Ferrara e tre fuori provincia. Ecco, ricordiamo quali sono questi sportelli e soprattutto le chiedo se quella che è stata fatta in queste settimane, non solo dal sindacato ma anche dalla politica, è stata una battaglia persa? Allora, chiudono anche, oltre alle quattro diciamo ferraresi, chiudono per rispondere alla tua domanda? Volviero, Stellato e San Giuseppe di Comacchi. Sì, è una battaglia, io non la voglio dare persa, è una battaglia che fanno tutti. Ecco, noi come sindacati, e lì voglio sottolineare ancora una volta che siamo strauniti, cioè la CTL, la CISL, la UIL, la FAB, il sindacato di categoria, sono tutti molto uniti in questa battaglia, ma non siamo soli e questa è una cosa che mi sento di sottolineare e di ringraziare. Cioè, ci sono associati la politica, locale, provinciale, regionale, si è associata anche la parte imprenditoriale. Il tavolo per l'economia di Ferrara ha scritto, se non sbaglio, a Viper per tenere un po' conto di questa chiusura qua. Non è una battaglia persa perché, perché intanto non è una battaglia, ahimè, che termina qua. Tutte le grandi banche stanno ridimensionando i sportelli, Viper adesso ne chiude 7 su 120 che chiude a livello nazionale, quindi mica poco per Ferrara, una bella botta. Ma è probabile che a fine anno ne chiuderà altre, 180 a livello nazionale. Quindi, se vuoi, la nostra battaglia è doppia. Tanto cercare, se riusciamo, di salvarne qualche durma a questo giro, ma soprattutto di far sì che basta, che non ne chiudano altre, perché questo territorio ha pagato, insomma, non poco. Ecco, ai tempi dell'acquisizione del 2017 erano 55, adesso sono 29 le filiali. Tra le filiali che saranno chiuse, oltre a quelle citate ovviamente in provincia, ricordiamo, Voghiera, San Giuseppe di Comacchio, Stellato, a Ferrara c'è Ponte del Lago Scuro, c'è San Martino, c'è Via Modena, Mizzana, ma c'è anche Corso Martiri della Libertà. Martiri della Libertà che esiste da sempre e la chiudi una filiale che ha otto persone, ma che serve un bacino storico di clienti di Ferrara, una filiale che da quello che ci risulta va bene. Quindi anche lì ti viene a chiedere perché la stai chiudendo, insomma. Noi continueremo a incalzare Vipera, a chiudere conto, soprattutto sulle ragioni oggettive delle filiali, della chiusura di filiale, che ribadiscono, insomma, io qualche perplessità ce l'ho io e non solo io. Tutti gli altri devono continuare a fare questo, cioè devono far capire che Ferrara è un territorio che ha delle potenzialità e sono dati oggettivi. Vipera ha guadagnato, ve lo sicuro, ma non solo Vipera, tutte le banche guadagnano su Ferrara, sono un'intica ripetente. Una volta è un po', insomma, la moda di chiudere facilmente senza capire che cosa si fa. Quando chiude una filiale, non chiude solo una filiale in cui i clienti sono obbligati a trasferirsi, quando chiude una filiale si spostano i colleghi che sono a memoria storica di quel territorio, che le imprese che lavorano sulla filiale le conoscono, le possono aiutare, che le persone anziane o non anziane che hanno il conto che la filiale le conoscono, possono dargli un servizio su misura. Quindi quando si chiude una filiale, si perde una memoria storica di un territorio e quello ci tengo a dirlo. Immaginate cosa vuol dire per le imprese, anche per gli enti locali, ovvero per la tesoreria. Quindi è un impatto pesante sul territorio. Adesso arriveranno soldi di PNRR. Le banche sono un volano per amplificare gli investimenti e chiudono le filiali, e quindi si impoverisce anche da quel punto di vista lì il territorio. Cronaca adesso picchiata dal fidanzato in via Garibaldi, in pieno centro a Ferrara, la mattina di Pasquetta. È il grave episodio che ha visto protagonista un italiano-nigeriano di 42 anni, il quale, secondo i carabinieri, avrebbe aggredito la fidanzata, una 33enne ferrarese, provocando le lesioni per i sanitari che l'hanno soccorsa, guaribili in 25 giorni, le lesioni che hanno portato anche la donna per un giorno a Cona per un ricovero. L'allarme è scattato a seguito delle grida d'aiuto della vittima, udite da residenti e passanti che hanno avvertito i militari, arrestato per lesioni personali volontarie pluriaggravate. Ieri mattina il giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, rimettendo il 42enne in libertà. E rimaniamo in ambito di cronaca, perché ci sono stati due episodi in carcere a Ferrara che hanno preoccupato il sindacato di Polizia Penitenziaria del Sappe. I fatti sono avvenuti poco prima di Pasqua, ma è un fenomeno questo che ha interessato già il carcere di Ferrara, ma è un fenomeno che si registra anche a tutto a livello nazionale. Sentiamo di cosa stiamo parlando. Nel carcere di Ferrara, in soli due giorni prima di Pasqua, sono stati rinvenuti un telefono cellulare smartphone e un altro piccolo telefono cellulare di 5 cm, oltre a schede sim e droga. Non è la prima volta che accade, solo grazie all'intervento degli agenti si è riusciti a scovare tutto questo, afferma Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale del sindacato. Secondo loro i possessori sono stati rinunciati e questi oggetti non sono consentiti in carcere. Un fenomeno pericoloso e dilagante, dicono dal Sappe, secondo cui i cellulari sarebbero usati anche per commissionare reati e continuare traffici criminali dall'interno della casa circondariale, strumenti a volte portati anche con droni dall'esterno. Ricordiamo che il comando di Ferrara in passato è stato il primo in Italia ad effettuare due arresti in flagranza di reato in questo ambito. E aumenta lo standard di qualità nei tre percorsi di screening messi in campo dall'azienda USL di Ferrara per la prevenzione dei tumori alla mammella, alla cervice al colon retto, la rete di servizi di screening oncologici coordinata dalla responsabile. La dottoressa Caterina Palmonari ha superato l'esame di valutazione audit della regione per il controllo degli standard di qualità degli screening eseguiti in un ambito territoriale secondo i parametri previsti da una legge regionale del 2013, una notizia poi che arriva a ridosso del 22 aprile, che è la ricorrenza della settima edizione della giornata nazionale della salute donna. E parliamo adesso delle vacanze di Pasqua, che hanno registrato numeri positivi negli agriturismi ferraresi in regione, a dirlo è col diretti Ferrara, che ricorda anche per le aziende agricole, i bandi e i finanziamenti in aiuto appunto di queste attività. Allora sentiamo il vice direttore di col diretti Ferrara, Riccardo Casotti. Ha tanti temi che adesso dovranno essere affrontati. Sì, temi sono moltissimi, stiamo tutti vivendo un periodo particolare, tra i temi particolari c'è quello del credito nel settore agricolo, il settore agricolo che comunque sta soffrendo come tutte le imprese per il contesto in cui stiamo vivendo economico e in particolare ci sono due elementi che voglio consegnare come promemoria. Entro fine di aprile, quindi 29 aprile, scadono i termini per fare le domande sul bando della regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la conduzione in regime dei minimis, quindi con un contributo regionale in abbattimento dei costi per le operazioni di finanziamento sia a breve che a medio termine, quindi sia a 12 mesi che fino a 60 mesi. Le domande tramite gli agrifidi si fanno per se i nostri uffici. La seconda cosa invece riguarda sicuramente molte imprese che purtroppo hanno problemi di carenza finanziaria, di mancanza di liquidità, qualcuno anche di crisi vera e propria. Con il recente decreto consolidamento di qualche settimana fa, di fine marzo, il governo ha dato la possibilità con un decreto di poter ricorrere a finanziamenti finanziamenti per operazioni di consolidamento di finanziamenti in essere, quindi mutui, prestiti agrari, tramite le garanzie di Ismea, dilatando fino a 25 anni la durata di rientro di queste operazioni finanziarie. Stiamo ancora in attesa della circolare operativa, ma sicuramente appena arriverà saremo in grado di offrire tutta l'assistenza necessaria e sicuramente siamo anche in grado di dare le informazioni che servono per affrontare come impresa agricola un tema che è quello creditissimo, che spesso potrebbe mettere in difficoltà invece di essere una leva da utilizzare. E tramite questa avere un respiro più lungo, quindi ristrutturare il debito, spalmarlo su più anni, sicuramente vuole dare una mano. Oramai si parla già di vacanze, di certo il settore degli agriturismi ha segnato anche con punte negative purtroppo la chiusura della pandemia. Qual è la situazione? La situazione fortunatamente oggi è di sollievo in qualche modo. Le prenotazioni in questo periodo pasquale ci sono state. Gli agriturismi sia di ospitalità che di ristorazione hanno avuto un'adesione interessante rispetto al clientela, quindi siamo nelle condizioni di poter dare un bel servizio, di poter ospitare quindi persone, turisti, anche di prossimità ma non solo, che vengono a trovare i nostri agriturismi. Quindi per dare quel momento così anche di svago rispetto all'ambiente rurale, rispetto ad offrire un cibo genuino, di filiera corda sicuramente. Quindi il consiglio, per chi volesse fare un'escursione, una passeggiata o anche proprio una piccola villeggiatura, è quella di verificare sul sito di Coldiretti Ferrara o sul sito nazionale di Terra Nostra, dove sono dislocati gli agriturismi di interesse, sia quelli ferraresi, sia quelli regionali o anche più londari. Sport Spal si è a lavoro in Casa Bianco Azzurra per affrontare le prossime sfide non facili di questo finale di stagione. Ci sono ancora alcuni strascichi dello 1-1 maturato in casa contro il Crotone, il giorno di Pasquetta al Mazza, ha parlato Venturato che si è detto molto dispiaciuto, ma come ha anche ribadito Giuseppe Rossi, si lavorerà per chiudere questa stagione al migliore dei modi possibili, cioè una salvezza tranquilla. Ma sentiamo le voci dei protagonisti a fine partita, dopo l'1-1 tra Spal e Crotone. Siamo partiti i primi cinque minuti in cui potevamo riuscire a chiudere delle azioni in contropiede, con delle ripartenze importanti, l'abbiamo fatto male, poi abbiamo perso l'equilibrio. Il Crotone è una squadra che da tutto il campionato gioca bene e che ha un'identità e un modo di stare in campo e ne ha approfittato del nostro disequilibrio, della nostra incapacità di mantenere un certo tipo di proporzioni proprio in campo. Questo ha agevolato il Crotone, siamo andati in difficoltà anche di testa, non abbiamo mantenuto l'attenzione, la capacità di soffrire in un momento molto delicato e siamo stati fortunati a finire il primo tempo 1-0. Dopo il secondo tempo abbiamo fatto una partita positiva per quello che dovevamo fare e dovevamo farla dall'inizio della partita. Siamo riusciti a mantenere la squadra corta, abbiamo lavorato spesso in ampiezza, abbiamo attaccato bene anche lo spazio, cosa che nel primo tempo non siamo riusciti a fare e abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiare prima e magari poter provare anche a vincere la partita. Non ci siamo riusciti, mi dispiace, mi dispiace molto, mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per il pubblico, mi dispiace per questa società che ha un valore straordinario in tutte le sue componenti, dalla passione del pubblico alla gente, alla società che ha la voglia e la convinzione di poter crescere e di far bene. Non aver fatto un altro risultato, una vittoria in casa, mi dispiace molto, però in questo momento è questo campionato e siamo stati bravi a riprendere questa partita. Mi dispiace che alla fine Finotto ha avuto un'occasione, mi sembra abbastanza clamorosa, che non è riuscita a buttare dentro su una ribattuta del portiere. È un'annata in cui dobbiamo essere bravi a fare i propri punti che ci servono per salvarsi e mantenere questa categoria che è un valore importante per questa società e per il pubblico e per tutta questa realtà. È stato un punto molto importante, purtroppo c'era il pareggio, non siamo riusciti a vincerla, loro nel primo tempo hanno avuto le loro occasioni, noi nel secondo, quindi ci sta, ci sta questo pareggio, però è sempre meglio vincere in casa. Adesso la classifica è quello che è, è una stagione molto difficile, una squadra giovane, molto molto giovane, che sta cercando ancora di capire il loro valore. Abbiamo dei grandi talenti, una squadra che merita di lottare per i play-off, non siamo una squadra di bassa classifica, però durante una carriera ci sono momenti, ci sono degli anni che bisogna crescere, ci sono tanti giocatori che stanno crescendo, stanno in una fase di maturità adesso e quindi ci sta questa stagione un po' così. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense. Grazie. 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 Grazie.